Eccolo qua! Ci sono! Come posso mancare accanto ad Anna Maria? Infatti il mio Leonardo Romanelli, che poi è anche il vostro, ogni volta vi stupisce perché è un tipo talmente allegro e scherzoso, dietro l'apparenza così seria di critico enogastronomico, ambasciatore del vino, del buon gusto, di tutto quello, scrittore di libri, insomma, e invece, e poi quando arriva qui, lui si spoglia di un po' di cose e rimane mimo. Esattamente, cioè, proprio spogliare, non è che posso totalmente, anche perché voglio dire, siamo in faccia protetta. Anche perché c'è tua mamma che ti guarda. Sì, esatto, e lì ovviamente non vorrei mai creargli problemi, però diciamo che qui effettivamente è l'ambiente nel quale uno si rilassa, si diverte, più che altro si parla di cibo e di vino in una maniera un pochino più rilassata e divertente. Però molto seria, ricordiamolo. Esattamente, è questo che deve essere la cosa che caratterizza sempre la trasmissione. Allora, la puntata di oggi è una puntata che è dedicata essenzialmente alla bontà delle mele. Perché? Ti piace la mela? Per caso originale inizia. Io sono appassionato di mele. Allora, le mele perché a settembre cominciano ad arrivare da tutta la Toscana mele di diverso tipo, che poi saranno quelle che consumeremo via via durante l'inverno. Ma alcuni non sanno che, pensano che arrivino dal Trentino, da altri luoghi, ma in realtà ce ne abbiamo tanti tipi anche noi. Il bello è quello di riuscire a capire che abbiamo vicino quelli che sono dei veri e propri patrimoni da scoprire. Anche per variare, quello può essere un'idea di mela che a volte, diciamo, la verità. Si pensa le mele e dice, sì, vabbè, il solito frutto. In realtà, no, ci sono tante le varietà di mele diverse. La mela ha molte nuanze, poi. Ma poi l'utilizzo diverso della mela a seconda del piatto che vogliamo fare. Perché sì, ho detto piatto, proprio perché la mela può entrare in cucina in diversi piatti. Quella più adatta per cuocere, quella più adatta invece per mangiare cruda. Quella che va bene per l'insalata. Quella che va bene per gli anziani. Esatto, le fritte. Oppure, veramente, ci sono mele per tutti i gusti, per tutte le occasioni soprattutto. E ci sono mele anche, ad esempio, oggi sono sperimentate nei gusti più moderni. Il crudo di pesce ha la sua mela abbinata, per esempio. Esatto, ieri abbiamo fatto una carabaccia con la mela, per esempio. Oppure l'insalata. Ma poi possiamo fare veramente un ricettario dall'antipasto al dolce. Poi, non solo, c'è anche la possibilità di bere. Beh, sì, chiaro. Con la mela, ricordiamoci sempre che la mela è quella che vi fornisce il sidro, dal quale poi ottenete anche direttamente dal sidro, lo distillate e otterrete quindi il calvados. Quindi una bella ciucca con la mela, va bene? Una mela al giorno, sotto ogni punto di vista, vi farà bene. Allora, i medici, quando ti dicono prendi una mela e c'è tutto, dicono una cosa che corrisponde veramente alla realtà. Soprattutto se voi la lavate bene e quindi riuscite a gustarvi anche la buccia, che è ricca di pectina, di cellulosa, insomma di tantissime qualità che poi vi fanno stare in salute. Non solo, non dimentichiamo che coloro che magari possono soffrire un attimo di gonfiore addominale possono mangiare la mela sotto forma di succo. Quindi il succo di mela, fatelo anche ai bambini. Date una bella mela, pensate che i dentisti, i pediatri dentisti sostengono che i bambini di oggi non sappiano più assolutamente masticare. Questo è uno dei motivi per cui spesso si dice che hanno il morso che va a destra e a sinistra. Invece non è vero, i bambini devono mordere non la mamma, non il babbo, non il critico gastronomico, ma la mela. Detto questo, io voglio parlare subito con il nostro cuoco di oggi. Christian, te lo metto sempre vicino, Christian Bolti, l'antica porta di Levante, meno male. Poi diciamolo, facciamo proprio un amarcord. Un amarcord, il suo alunno. Esatto, tre anni, ben tre, ora non sembra, ma quando è stato anche piccolo e magro una volta, oggi non potrei dirgli nulla. Ma all'epoca, insomma, dalla prima alla terza è stato mio alunno. Questa è una cosa, potremmo dire, già un sigillino di qualità. C'ha la R, no? L'R di Romanelli. Il marchio di Romanelli. Che cosa mi fai? Un piatto squisito adatto per questo inizio di autunno. Noi faremo un cartoccio con del cinghiale, questa è una coppa, con dell'uva e delle mele. Benissimo. E poi servirà un'insalatina di mele, giusto per smorzare un po' il grasso del taglio del cinghiale. La mela fa venire in mente Adamo, Eva Leros. Proprio Leros sarà protagonista di un dibattito, potremmo dire, di alcuni piatti a Boccacesca. Che cos'è Boccacesca? Vogliamo chiamare colei che è Boccacesca. Claudia Palmieri, dove sei? Vieni, vieni. Allora, detta così, lei che è Boccacesca, vorremmo quasi pensare. Lei è Boccacesca perché... L'ha creata, l'ha inventata. Lei è Boccacesca e è Claudia Palmieri. Vieni, Claudia. Eccoci. Allora, due appuntamenti da non perdere per tutti coloro che amano ritrovare questo appuntamento da ben 16 anni. Certaldo Alto, il 20 e 21, il 27 e 28 con Boccacesca. Che cos'è? Boccacesca, che cos'è Leonardo? Tu la conosci, tu la conosci come me e quindi ormai sono tantissimi anni che tu sei un protagonista di Boccacesca. Boccacesca è Certaldo, Boccacesca è magia, è cuscina, è vino, è gioco, è spettacolo. È bambini. È bambini. Ma è un po' tutto. È vino, parecchio vino. Sono assaggi. Sì, allora, ogni due anni Boccacesca c'è un premio al miglior vino della Valdilza. Ora, a cose normali c'è sempre una giuria di sommelier, di enologi che decretano qual è il miglior vino della Valdilza. Quest'anno siamo andati controcorrente. Già te lo dicevo. No, ma è giusto, mi sembra anche. Quindi il giudice assoluto sarà il pubblico. Quindi all'enoteca di Boccacesca, dove si potrà degustare tutta una serie di vini delle aziende della zona, e ho visto sono circa 50 vini, quindi è tanta roba. Insomma. Chi deciderà qual è il migliore è il pubblico. Degustando con il calice di Boccacesca avrà una scheda. Anche 50 vini, mamma mia. Ma se ce la fassi, tutto dipende se poi è da tornare a casa o la macchina. Intanto facciamo vedere delle immagini appunto di Certaldo e della passata edizione. Dicevamo bambini, dicevamo gioco, dicevamo anche dibattito e piatti. Protagonisti di quest'anno, nel 20, sarà proprio Leonardo Romanelli, Francesca Cavini della Nazione, Claudio Zeni della Guida dell'Espresso, a creare tre piatti che verranno giudicati invece dai cuochi, cuochi molto molto autorevoli. E subito dopo ci sarà un dibattito su che cosa, Claudia? Allora, sarà l'amore per il cibo e il cibo per l'amore. Perché si sta pensando sempre a quello che è il cibo afrodisiaco. Io credo fondamentalmente che l'afrodisiaco sia nella nostra mente, perché anche una mela può essere afrodisia. Anzi, soprattutto una mela. La mela diciamo di sì. Ora, su certi piatti qualche problema me lo pongo. Cioè, il finocchio bollito ce lo vedo male, afrodisia. Insomma, con la persona giusta. Molto giusta, molto. Con l'oletto giusto. Quindi, e proprio personaggi come Leonardo ci risquisiranno su questo argomento. Chiaramente, deve essere un argomento nel quale noi, non tanto perché non è che ci poniamo l'idea di fare chissà quali argomentazioni veramente strutturate, ma in realtà dobbiamo analizzare una cosa. E c'è qualcosa che lega perennemente, anche nel gioco, nelle parole. Parleremo del linguaggio che utilizziamo, di quante volte il cibo entra nel linguaggio, mescolando, che possono essere argomenti in qualche modo erotici, a quello che è la tradizione. Cioccolatino mio, sarebbe. Cioccolatino mio. Guarda, se mi parli del cioccolatino, ho in mente una pubblicità degli anni Ottanta. E tipo? Eh, quella del Toblerone. Ricordateva. Non me la do. Vedi che anche i pubblicitari si ricordavano. Cioè, sono sempre stati di quelli che hanno giocato. Perché il Toblerone, che cosa diceva? Che diceva sto Toblerone? Quando è lungo così, quando è grosso così, è un piacere morderlo. Si parla della stecca di cioccolato, evidentemente. Però vi fa capire come già i creativi giocavano su questo. Con le allusioni. Con le allusioni, evidentemente. Non solo, però è anche salute. Per cui ci saranno un appuntamento con i medici, fra l'altro medici che voi conoscete, perché uno è il Dottor Del Re, l'altro è il nostro Luca Bertini, a disposizione per poter aiutarvi, non so, a dirimere qualche problema sulla vostra dieta, sulle vostre analisi. Quindi possiamo anche andare provvisti di analisi, volendo. Quindi questo è un appuntamento, invece, potremmo dire un pochino più serio, ma poi c'è musica e tanto altro che andremo a conoscere nel corso di questa nostra trasmissione. Allora, abbiamo dato subito il benvenuto a Claudia, perché il mimo di stasera, cioè il nostro Leonardo, vi mimerà un film. Questo film, che non è così poi facile da indovinare, vi darà la possibilità di ricevere, Claudia, che cosa? Una bella, bella serata. Una cena per due, una cena dell'amicizia alla taverna, al castello di Tavolese, vicino a Tavarnele, quindi a 20 minuti da Firenze. Niente, sarete ospiti, graditi, veramente. Tra l'altro il castello di Tavolese è veramente un castello non molto conosciuto, bellissimo, dove appunto abbiamo questa grande chef, eccolo qua il castello, che è la nostra Sara dell'Osteria del Vicario, quindi legata a Certaldo, perché è di Certaldo, è il ristorante, potremmo dire, simbolo di Certaldo nel mondo e quindi... Vorrei... Precisare? Sì, quel numero non va bene. Questo numero? Quello è per partecipare. Ah, scusate. Sì, 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 per partecipare, per telefonare. Sì, sì, telefonate, telefonate, perché lei sarà il mimo, allora. Mimo, forza. Sono quattro lettere, io vi farò la seconda e la quarta. Bene? Seconda. Un avvoltoio? La quarta. Ma mia. Un uccello? Non lo so. Spennato. Allora, pensate che, insomma, sono due parole precise. La prima è facilissima, poi pensate... Vabbè, che ne so. Vedete, dai, una volta, diciamo, il giorno è carino anche scherzare. Certo. Quindi questo è il mimo, il nostro mimo di famiglia, l'aspettando il PG, il numero in superfessione è questo. Partiamo subito con la ricetta e poi dopo avremo una signora che viene dal Mugello a presentarci le mele di stagione, tutte di sua produzione. La nostra Sabrina della Materaia. Allora, Cristiano... Iniziai a prepararci in fondo. Abbiamo detto il nome del piatto, dimmi per favore gli ingredienti. Allora, un cartoccio con della carne di cinghiale, quindi un cartoccio di cinghiale, si può usare vari tagli, con mele e uva. Quindi due frutti di stagione. Ecco, mele e uva. Diciamo la verità che la nostra tradizione gastronomica toscana via via si adegua alla stagione. Quindi il cinghiale, come per esempio il... che ne so, la faraona, finiscono sempre ad accompagnarsi, come anche il coniglio, con alcuni dei prodotti di stagione. Noi pensiamo, coniglio che può essere perfetto anche con le mere, come anche il maiale, come il cinghiale. Poi via via può essere inserito con le olive. Poi viene fatto all'uva. Insomma, via via proseguendo e poi arriviamo alla primavera, eccetera, eccetera. No? Quindi il cinghiale è buono sempre. Quanto costa? Il cinghiale può andare, dipende da tagli, se è pulito o meno, dai 7 euro a salire, se poi uno vuole il carrevole, le bistecchine, piuttosto che quello che è l'arista, il solito taglio che è l'arista e maiale, quindi il lombo disossato. Eh, queste cipolle non sono quelle di Certaldo, vero Claudia? Vieni qua. Le cipolle di Certaldo, che cos'hanno di meraviglioso? Ricordiamolo. Sono dolci. Sono dolci. Sono dolci e poi sono veramente, non hanno questa acidità, questa sapidità così forte come tutte le altre cipolle. Quindi sono perfettamente anche più digeribili, digeribili rispetto ad altre cipolle, perché per esempio, questa è una cipolla forte, potremmo dire. Perché siamo tutti piangendo. Però, no dai, non è che fa piangere troppo questo rispetto ad altre cipolle. Ma perché te gli occhiali... No, ma scusa. Ricordiamo questa leggenda metropolitana che chi ha gli occhiali non piange. Signori, non serve a niente di mettere lo stossicadenti né il sale, eh. No, se ti metti... Che è forte, è forte. Guarda, Leonardo, se ti metti gli occhialini quelli per da sub, quelli con perfetta aderenza, ti giuro... Io penso sempre a uno che suona alla porta in quel momento, con quello che ha per gli occhialini, penso, chiami subito il 118, trattamento sanitario obbligatorio. Ma scusa, in casa propria si può fare quello che si vuole, si può essere come, insomma... In una cucina uno chef gli fa una cosa simile che fa uno chef, ti butta fuori subito. Insomma, far piangere il signore non è serio. Allora, le cipolle di Certaldo, fra l'altro, che possono essere acquistate a Certaldo perché a Boccacesca, ricordiamo, non è... C'è soltanto tutta questa serie di cose divertenti, c'è anche, in realtà, un mercato di eccellenze, no? Sì. Sono molti banchi che si snodano lungo Certaldo Alto, quindi è anche bello vedersi, e costituiscono un appuntamento per tutti coloro che ormai da 16 anni vengono a cercare certi prodotti. Vorrei anche evidenziare che quest'anno è tutto il palazzo interessato a Boccacesca, anche al primo piano, l'enoteca sarà al primo piano, espositori saranno al primo piano, quindi sarà tutto il palazzo. Mi raccomando, salite, salite su perché troverete delle belle cose. Quindi si può comprare dal pane particolare alla pasta particolare, ci sarà una taverna di prosciutto con tutti i tipi di prosciutto toscano e non solo, insomma. Ma che bello quello è proprio veramente davvero goloso, ricostituire proprio l'idea della stagionatura come si faceva una volta, bello, bello. Veramente. E poi ci sono anche dei momenti gratuiti di grande goduria perché ci sono le pesche al vino, no, Claudia? Sì, la tradizione. Sabato 20, la sera, a chiusura, tutte pesche al vino per tutti. E invece la settimana dopo? Coccoli. Coccoli per tutti. Bello, cioè proprio quelli che erano i piatti di una volta che alla fine si cerca di abbandonarli. Ficcatole, sì. Anche da noi. No, perché siccome mi hanno tutti, hanno cominciato tutte a ridere, io ho detto ficcatole per tutti. Sì, ma da noi le fanno anche più schiacciate, Sì, esatto, il coccolo è più tondo mentre la ficcattola è più larga e più schiacciata. Allora, io sono per il coccolo che è tondo tipo crocchetta. Esatto, brava. La ficcattola invece diciamo che ha una forma un po' più piatta e quindi si chiama ficcattola. Bene, abbiamo subito una telefonata mentre la cipolla è entrata nell'olio. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Dunque, sono la Manuela da Mugello, da Vicchio Mugello. Oh, allora Manuela, ma lei ha occasione di andare dal nostro Cristian? È proprio qui vicino a me. Ci sono stata tante volte, sì. Come si cucina si mangia da questo ragazzaccio? Eh, bene, bene. Bene. L'ingamba, l'ingamba, Senta, Emanuela, lei sa fare i mitici tortelli di patate? Eh, che scherza davvero. Ho da mangiare anch'io, eh, in una cassa di riposo. Ah, ecco. Alla poco in una cassa di riposo. Ah, ecco, ecco. Questo, veramente, comunque, beh, insomma, è una professione molto, una professione dura, perché fare il cuoco è duro. Eh, è vero, è vero. Sempre. E però, penso che in una cassa di riposo possa dare anche tanta gioia. Io ho ospitato talvolta. Perfetto. Vero? Perché gli aspettano solo il momento di mangiare. Giusto. Brava, perché a una certa età, soprattutto se si è in una cassa di riposo, il momento della convivialità, del gusto, del coccolarsi, è dovuto proprio a lei. Quindi, guardi, mi fa veramente tanto, tanto piacere. Grazie. Veramente tanto che mi abbia chiamato. Allora, vediamo un po'. Ha visto questo, questa cosa di Leonardo. questa cosa. E mi è venuto in mente, un ricordo bene, uccelli uccellacci? Ah, no. No? No. Uccelli uccellini? Eh, no, no, comunque non era quello. Non è questo. Senta, Manuela, mi lasci per favore il suo numero di telefono, perché mi piacerebbe molto che lei venisse a cucinare simbolicamente per i suoi... così la guardano in televisione la sera, li ricordiamo. Dove è, mi scusi, se è possibile, questa casa di riposo? Dove è? A Borgo San Lorenzo. Allora, cerchiamo di farlo, se le fa piacere. Eh, si vedrà un momentino, eh, se è possibile. Grazie, Manuela. Arrivederci, arrivederci, grazie a lei. Grazie, grazie. Allora, il cinghiale è stato tagliato a fette, a quadretti, scusami, ed è finito lì. Io vorrei parlare un secondino, però, di cinghiale, perché? Marinatura non se ne parla. No, era un... No. No, perché i cinghiali sono diventati tutti signori, non si marinano più. però adesso c'è un po' d'attenzione, quando vengono, diciamo, uccidi, abbattuti, comunque c'è sempre molta attenzione a levare le parti e poi creano cattivi odori, vengono spellati, sempre, quelli che arrivano comunque a noi sono sempre certificati dell'AS, quindi difficilmente sono animali con problemi, insomma, era un cinghialetto, probabilmente una femmina, la carne è ancora abbastanza chiara, giovane. Ecco, perché è molto importante, noi abbiamo ospitato, mi sembra il presidente della Federcaccia, che ha detto, non è che voi prendete un cinghiale con la macchina e ve lo portate a casa e ve lo mangiate, capito? Ora, siccome capita di fare questi brutti incontri, magari non di caricarlo in macchina, però ricordiamo che deve essere segnalato, eventualmente, e perché per consumare la carne di cinghiale ci vuole possibilmente un certificato, vero? Sì, anche perché c'è la trichellinosi che è la... Che è sta trichellinosi? È un parassita che per comunque o viene comunque ucciso con la cottura, quindi cotto a alte temperature, quindi una cottura come questa lo permette. Quindi anche le salsicce di cinghiale, guai se non si sono certificate. Bisognerebbe fosse quantomeno abbattuta, credo a meno 18, a meno 20, per almeno 36 ore. Sì, il problema vero è quello lì, che chiaramente però le cotture queste ci permettono di avere una diciamo dimensione di sicurezza nel momento in cui andiamo a mangiare. L'abbattimento, ricordatevi, è quella pratica che si fa, la conosciamo per il pesce ma anche sulla carne, abbatte tutti quelli che sono quei parassiti che altrimenti non possiamo debellare. Però in realtà quando è certificato il problema non si pone proprio. Appunto, certificato perché soprattutto il problema si pone nelle salsicce, è vero? Quindi non ve le fate a casa se ammazzate il cinghiale, che deve essere ma al massimo ha battuto due volte. Una volta ha battuto prima e poi ha battuto dopo. Il freezer di casa. Allora, a questo punto cos'è aspettare il TG senza la pubblicità? Pubblicità. Eccoci tornati qua. Allora, il cinghiale portato da Cristiano è finito nella pentola, nella casseruola insieme alla cipolla, l'aglio, l'olio. Ci mettiamo l'uva adesso? Sì, vai. Vieni, che tipo? Sangiovese? Cos'è Sangiovese? Buono Sangiovese. Diciamo il principe dei cultivars? Sì, diciamo, è uno dei sicuramente dei cultivars comunque interessante perché il Sangiovese è la classica uva da schiacciata insieme al canaiolo. Quindi è un'uva per la schiacciata non quella che si mangia normalmente ma in realtà deve essere un'uva che utilizziamo per fare vino quindi è più piccola quindi è il chicco più anche dolce ma è una buccia piuttosto decisa e resistente. Esatto, quando lo andiamo a cucinare come sta facendo la Christian quindi regge un po' di più. Tra l'altro l'acino è molto piccolino esatto. Per cui ora ci sono tanti tipi di schiacciate con l'uva ve le faremo anche tante durante aspettando il TG però c'è questa moda di farle con il moscato con lo zibibbo con quello con quell'altro allora la vera schiacciata con l'uva ha il Sangiovese o il canaiolo il Sangiovese il canaiolo sono due uve schiacciate perché era un modo per i contadini di unire la pasta del pane all'uva che era in abbondanza e che quindi veniva usata. Ora devono entrare le mele usiamo la renetta la renetta eh la renetta che buona la renetta vieni Sabrina vieni subito qua Sabrina è l'azienda agricola La Materaia su a Maioli a Rostolena praticamente nel Mugello ci ha portato un bel cesto di mele di cui dopo parleremo però sentiamo subito la renetta vecchia mela dei miei anni verdi è una mela che si utilizza per cucinare e inoltre è una mela anche indicata per le persone che non possono prendere troppi zuccheri perché è una mela abbastanza acidulina e quindi insomma io ad esempio la utilizzo sia per la carne che per fare i dolci è molto buona un tempo quando si diceva fare una mela cotta veniva in genero la mela al forno veniva fatta la renetta perché aveva questa buccia e poi si apriva fra un po' diventava un fiorellone rimaneva intera si apriva e rimaneva questa mela da poter mangiare con il cucchiaio abbastanza intera allora questo è il momento delle mele voi avete 14 tipi di mele diverse su? 13-14 varietà adesso stiamo raccogliendo delle deliziose le renette le golden dopo le facciamo vedere e poi dopo ci saranno altre varietà che fino al 10 di novembre noi raccogliamo le mele per cui insomma ancora per un mese abbondante senti quando si acquistano delle mele no? tipo adesso se uno venisse da te potrebbe venire da te a prendere una cassetta di mele no? però come si conservano? allora si conservano fuori dal frigo perché appunto noi le conserviamo in delle cassette e le mettiamo in un ambiente io in casa per esempio dove le metto? in una cantina in un ambiente asciutto e fresco ovviamente e basta controllarle ogni tanto perché appunto delle volte ce ne potrebbe essere una un po' sciupata e quindi magari poi la potrebbe intaccare anche le altre e così in un ambiente fresco insomma non nel frigo ecco volendo uno può tranquillamente venire a comprare una cesta di mele e per un mese avere le mele sicure biologiche quelle che ha visto praticamente cadere potremmo dire quasi raccogliere dalla pianta dura non solo per un mese ma le nostre mele si mantengano anche fino a marzo aprile noi abbiamo dei clienti che le comprano adesso e dove le mettono le clienti? in garage in cantina anche tu in cantina è un po' il concetto che veniva applicato nei vecchi tempi quando si raccoglievano certi tipi di frutta e venivano messe con alcuni accorgimenti per esempio i di osperi raccolti fra poco accompagnavano fino a Natale e messi magari con le mele si accelerava la maturazione ci sono certi tipi di pere che oggi vengono raccolte che sono dure proprio come le pigne e che saranno pronte fra un po' e che maturano tranquillamente senza andare a male ora fra poco parleremo meglio di mele di fronte al tuo cestone ma intanto è entrata la mela potremmo sostituire al cinghiale il maiale no? io attualmente in menù utilizzo il maiale insomma dipende poi da il maiale è un po' più grasso il maiale è un po' più morbido e anzi lì la mela aiuta un po' di più perché da un po' più d'acidità mentre il maiale è un po' più dolce il grasso è un po' più dolce ecco lo sai cosa faccio io quasi alla fine facendo una cosa abbastanza simile metto dei fichi per cui faccio addirittura vi rinforzo uva fichi e mele e cinghiale pochi proprio vero mi voglio bene Leonardo però che dici si focola a un certo punto proprio non ti fai mancare niente come si suol dire in questi termini guardate se volete metteteci pure una prugna già che ci siete però con dei fichi che ovviamente non devono essere fichi che si spapolano quindi ci vuole un fico abbastanza integro abbastanza consistente no? compatto e dopo diventa buonissimo più verdini che dotati volendo parlare assolutamente sì fico verdino con una bella telefonata pronto? pronto? buonasera buonasera il tuo nome? Tina Tina da dove telefona? da Impruneta da Zona del Chianti quindi quanti festeggiamenti avete fatto voi? ancora no c'è la festa dell'uva alla fin del mese io pensavo che aveste già iniziato no il 28 l'ultima domenica di settembre vedi io già festeggiavo perché all'Impruneta festeggiate parecchio però eh sì poi c'è la festa della birra quella del pò dei rioni le scene dei rioni sì che siamo sempre in festa ci sono i carri allegorici mi sembra i belli o la musica hanno non sono potuti estilare perché pioveva lo so ma infatti io magari sono tornata dalle vacanze e ho telefonato subito mi sono messa subito sulla televisione ho disfatto le valigie e basta ah grazie allora guarda lei è un telespettatore meraviglioso telespettatrice vediamo un attimo le piacerà penso andare a Boccaccesca a Certaldo eh? ma io ci sono ci sono stata a Certaldo perché c'è una mia mina e però magari magari ma ci torni così ci incontriamo che io sono lì a presentare diverse cose ci sarà anche Leonardo ci sono tante cose belle ma vediamo se riusciamo a mandarla al castello di Tavolese che fra poco Claudia ci ricorda dove essere a questa bella cena lei vuole rivedere Leonardo che fa il mimo? il verso ce l'ha ce l'ha ho detto forse ce l'ha ce l'ha vai mi dica per me è la canzone di Domenica Modugno è un film è un film è un film ah un film ah ho capito una canzone scusi ah non ha detto niente non ha detto nulla io non ho sentito quindi lei può continuare non ha detto un titolo non ha detto nulla quindi provi a dire un titolo di un film un film ce l'ho presente allora aspetti facciamo così Leonardo rifa va bene? e così se le viene in mente in quel secondo in quello rifa me lo dice altrimenti ci dobbiamo salutare vediamo un po' va bene allora sono quattro lettere quindi abbiamo un articolo nella prima e poi quindi una preposizione allora la seconda è questa la quarta è questa sì finita senta io non lo so ma lo sa che mi scervello come si dice in toscano eh sì sì anch'io ma anche lei è perverso è un film recente magari mi vorrei ricordare ma vieni a vedere c'è un film di tanti anni fa di quanti anni ha insomma un po' di anni dieci sì una decina no anche di più forse è un giallo però un film che ha avuto un bel successo è un giallo è un giallo è un giallo no c'è qualcosa c'è dei risvolti c'è dei risvolti non proprio aspetti perché è quello di Hitchcock no niente no bisogna che la saluti va bene è un momento di quello perché c'erano gli uccelli ci vediamo l'ho disfatto le valigie l'ho disfatto appena arrivederci però me lo vorrei arrivederci arrivederci vi faccio molti complimenti per la trasmissione arrivederci grazie davvero e a presto allora a questo punto ma che razza di film stai cercando il nostro cinghiale è andato avanti ma non ci ha messo niente nulla nulla quindi l'uva rilascia quel zughetto che serve per cuocere si si vi deve stare lasciando il suo succo la mela si sta sciogliendo quindi da anche un po' più di consistenza alla salsa non è proprio liquida cioè un cinghiale pallidissimo dietetico proprio eh ma quando poi è finita la cottura è buono come si dice come finiamo questa cottura mettiamo un cartoccio allora mettiamo anche questo in un cartoccio ecco qua intanto vi ricordo appunto di approfittare del quiz eccolo col cartoccio no non è la carta carta forno semplice questo potrebbe essere un monoporzione sì cioè quindi avessimo cioè voglia di fare il cinghiale presentato in modo diverso potremmo creare sette o otto a seconda dei commensali cartoccini che dici? ma questo diventa anche una maniera ricordatevi per sveltire il lavoro quando siete in cucina e avete degli ospiti se non volete essere trafelati o trafelati essere sempre in cucina quando gli ospiti sono lì questo lo potete quello che sta facendo Cristian lo potete fare in anticipo e successivamente si tratta di mettere in forno dico bene? sì ma è molto carino per cui si mantengono tutti i profumi gli aromi ognuno scartoccia a questo punto ho già un po' di sale e pepe ecco sale e pepe sì sì un rametto di rosmarino tieni il rosmarino te lo do io guarda questo qui eccolo lì andiamo ah va sfogliato però io preferisco lasciarlo intero voi che dite voi due perché il lago di lago si dice così di rosmarino può essere antipatico che dite? sì però a quel punto magari se lo fai che stai in forno a temperatura fortissima lui preferirà fare una cosa breve ma intensa insomma Claudia hai mai fatto il cinghiale al cartoccio? no no eh allora te lo faremo assaggiare dopo lo leghiamo il cinghiale lo faccio in umido classico con la marinatura ecco vedi con la marinatura usi l'acqua di marinatura anche? assolutamente no ecco io prima di tutto non uso l'acqua ma tengo il cinghiale una notte sotto vino no ma io per acqua di marinatura scusa mi intendo liquido di marinatura che alcuni no 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 qualcuno lo utilizza per cuocere io lo anzi li faccio fare non solo butto via li faccio fare l'acqua anche sì perché poi la butto via anche tre o quattro volte vai a mettere il forno a quanto? a 180 gradi una ventina di volte il cinghiale piace ma non amo il selvaggio mi dà proprio noia il famoso affrore quell'elemento che magari qualcuno disgusta nel momento in cui si arriva a mangiare quindi la selvaggina il saperla trattare sta in questo o lo abbiamo a fresca certificata quindi un prodotto in cui fondamentalmente il sangue e l'interiore sono tolte subito altrimenti si impregna tutta la carne e poi per togliere ci fa tutto il processo di marinatura sì è abbastanza lungo però sinceramente dà dei buoni risultati sottiene quello che vogliamo anche io faccio così nel senso che taglio tutto il cinghiale a pezzetti poi metto del vino metto bacche di ginepro metto di tutto insomma di tutti gli aromi possibili e immaginabili e poi copro e lascio una notte la notte la mattina dopo tolgo tutto questo che alcuni però vi ripeto ma tanti soprattutto in Maremma filtrano questo liquido e lasciano per rimettere la cottura poi io metto in una pentola potremmo dire facciamo una pentola come può essere questo pentolino semplicemente questi tocchi di cinghiale anche magari tagliati un po' grandi per fare più semplicemente e lascio che metto a fuoco e lascio che esca quest'acqua quest'acqua è un togliere ancora di più quello di cui parlava prima Claudia dopodiché tolgo quest'acqua mi riprendo questi pezzetti e finalmente li immergo nell'aglio nell'olio in tutto quello che è necessario se tu cucini un cinghiale in un pentolino come questo allora come cucini un risotto alle rose cioè che c'è bisogno proprio non so che contenitori io sai da quando ho quella sigla bellissima perché veramente sono tutta una poesia ci metto anche il coperchio a cuore nel risotto che vi farò vedere fra poco allora abbiamo messo comunque il cinghiale e il cartoccio dentro lì a che temperatura ricordiamolo perché è un punto fondamentale per quanto tempo 20-25 minuti poi dipende la dimensione dei quadretti di cinghiale poi abbiamo fatto e quanto siamo riusciti a stufarlo ecco prima quanto dovremmo stufarlo prima di solito un taglio di questo genere la parte più magra della coppa è una mezz'oretta più o meno ecco ora questo veramente è una parte molto tenera perché c'è grasso intramuscolare se uno usa la polpa di solito spalla o coscia ci vale un po' di più perché è più magra è più fibrosa è una parte dell'animale che lavora di più benissimo vi voglio ricordare subito la telefonata guardiamo un attimo se c'è qualcuno per il quiz Leonardo è pronto vi faccio per dopo vai velocemente allora quattro lettere di cui io vi faccio la seconda e la quarta la seconda guardate esattamente la quarta Hulk che cos'è telefonata pronto pronto buonasera che bella voce a chi appartiene a Piero Piero da dove chiama da Firenze senta Piero lei è la prima volta che chiama aspettando il TG quest'anno sì mi fa proprio piacere quindi comunque è un affezionato se le capita lì poi sento che voi parlate di Mugello io ho la moglie di Mugello per cui si può andare dei paesi tuoi garanzia di buona cucina vero moglie del Mugello beh ho sentito parlare di tortelli finché io ci vado a nozze ma poi qui si va a nozze con tutto qui siamo mele del Mugello marroni del Mugello le mucche del Mugello i formaggi del Mugello poi che c'è i funghi del Mugello i paesaggi i paesaggi del Mugello presi a primi d'agosto presi presi funghi a primi d'agosto sempre in Mugello tutti lì e poi ci sono i lamponi del Mugello e le donne del Mugello è vero senta vediamo un po' le faccio dire dove andrà se risponderà in modo giusto Claudia dove ospiterai i nostri telespettatori allora a una scena dell'amicizia alla taverna del castello di Tavulese quindi scena romantica una scena romantica naturalmente in un ambiente splendido un ambiente romantico ma eccezionale Anna Maria lo conosce è un posto bellissimo non conosciuto la più bella terrazza della Val d'Elsa pensate un po' con una grande cuoca quindi il Chianti quindi che vi devo dire mi dica un po' è riuscita a identificare questo film? ma dunque senta io in un primo tempo lì al centralinista gli ho detto una cosa sempre legata ai volatili poi però quando Leonardo ha detto che c'è anche una preposizione mi è venuto in mente non sarà l'uccello che risorge l'uccello che risorge no purtroppo no però insomma si comincia piano piano a avvicinarsi ma si eh vabbè si arriverà alla fine si arriverà su cose arde per trovare questo film no guardi se lei mi conosce bene visto che è un telespettatore sa che con me questo con Anna Maria non si può non è possibile cioè finché si scherza in modo sottile no beh è certo ma è certo diciamo che è un po' l'arguzia toscana che viene fuori è molto molto carina e quindi è anche giusto giocarci del resto la vita è fatta di cibo di erotismo di sensazioni e quindi i sensi sono presi dal cibo va bene ecco senza dubbio senta Piero alla prossima andrà a Certaldo? penso di sì penso di sì va bene va bene 20 e 21 27 e 28 e 28 sì 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 perfetto grazie grazie alle donne del Mugello grazie ma allora oh allora semplicemente per farvi capire concentratevi più questo di me intero sul movimento sulla parte che faccio cioè non guardate i particolari i particolari e poi soprattutto è chiaro essendo un mimo non si può cioè ci sono delle parole che per mimarle dobbiamo fare come un'azione che significa quello quindi non concentrare su quello ma un significato evocativo più ampio evocativo quindi evoca di nuovo? ma l'avete capito voi qui del mio gruppo? allora insomma quindi ho fatto quindi ricordatevi sono le due perché c'è un articolo e una preposizione va bene comunque andete al castello di Tavolese se riuscirete a indovinare questo film è forza forza perché io non voglio più finire le trasmissioni senza aver dato questa bella opportunità di vivere una cena per due persone anche perché poi stiamo rimanendo indietro nel senso che per esempio Cristiano vuole dare una cena anche da lui o al passaguay scacciaguay di Borgosan Lorenzo passaguay oppure all'antica porta di Levante quindi forza e coraggio eh c'era ancora da dare il quiz la possibilità di andare a San Mignato insomma ci sono tutta una serie di cose va bene a questo punto io direi che possiamo togliere dal forno questo e prepariamo le mele va bene ci si fa una melina marinata una soltessa la melina marinata questa è una gold questa è una gold vieni Sabrina per favore a spiegarci la gold la gold ora sono appena un pochino indietro quindi ancora un pochino acide le caratteristiche della gold gold o golden? golden golden è una mela adesso ad esempio che è appena raccolta è ancora un po' sprina poi diventa molto dolce è una mela molto leggera è una mela che danno anche i diabetici vero? no quella è la renetta perché la golden in realtà diventa abbastanza dolce sì quindi è una cosa di zucchero alta è più zucchero sì invece la renetta è proprio per i diabetici ecco allora avete visto anche fra le mele ci sono delle cose da sapere su questo argomento delle curiosità delle curiosità qui vedete che viene tolto il famoso torsolo potremmo dire e ha lasciato la buccia buccia che dicevamo fa bene è inutile dire buccia fresca fa bene sì sicuramente però è buona senza diciamo la verità se la sbucciate il critico vi dice fa bene giustamente non faccio il nutrizionista ma se la sbucciate la mele è più buona veramente detto così però il nutrizionista invece vi dice fate così io lo parlo da critico giustamente e poi vi devo dire la verità è anche il momento di inserire le mele non solo nei nostri dolci ma anche nella nostra dispensa per l'inverno quindi fare una bella confettura di mele è anche facile perché la pectina aggrega molto aiuta molto e quindi uva e mele è una eccezionale confettura pubblicità allora ecco qua il nostro Cristian che sta prendendo il cartoccio di cinghiale chi ci ha seguito finora avrà visto che stasera abbiamo fatto un cinghiale proprio di stagione con il protagonista le mele pezzetti di mela e l'uva ma un piatto molto accattivante con un bel bicchiere di vino rosso credo che insomma uno è scavazzo credo sia assolutamente necessario il vino rosso in questo caso proprio perché è un prodotto in cui ci sono aromi in cui c'è consistenza beh in qualche modo lo richiama un vino rosso allora a questo punto mettiamo un po' di mela mettiamo un po' di sale si aspetta lui dice sale signori questi cosa sono che sale è sale a scaglie è sale a scaglie appunto quindi ora se volete un attimo fare un salto usate sempre sale spezzato a scaglie non più sale fine ma perché scusami perché io in realtà c'è un motivo dai spieghiamo il perché ha una sorolità molto più alta è molto meno aggressivo cioè io ho una delle mie bambine che lo mangia quasi come patatina è piacevole come in bocca non dà l'amaro ecco l'idea che sia un sale a scaglie fa presupporre di mangiare più sale in realtà o più salato invece no ho detto una parola che mi ha colpito una delle tue bambine vuol dire che hai mi sento nonno in questo momento oddio avendolo visto piccolo a questo punto prego fai pure un momento io mi immagino il tuo figliolo come possa essere lasciamo stare io saluto pure le mie di figlie allora io volevo ricordare una cosa che mi ha fatto vedere il nostro Christian e cioè una mela fresca appena colta con tutti i succhi profumi anche se non è decisamente matura non si ossida voi avete visto sono ben dieci minuti che noi l'abbiamo è la prima quindi ci vuole e guardate rispetto anche la prima che abbiamo fatto ormai quasi un'ora fa vedete l'ossidazione è lentissima questo significa che quando tagliate una mela un secondo dopo vi diventa nera è perché ha visto il frigorifero dove certamente molti le conservano che cosa hai messo hai messo l'aceto un po' di aceto di vino l'aceto di vino ora l'olio sì l'olio come un'insalata insomma a me piace anche mettere un'insalata mista a volte qualche scaglietta ci sta proprio bene questo anche io lo faccio senti Cristian ma visto che tu fai il tecnico è una cosa ma il coltello in ceramica permetterebbe di ossidare meno questa frutta si dice credo di sì io non l'ho mai usata voglio essere sincero io sono dell'idea che quello visto alla fine ora abbiamo anche i prodotti di moda il coltello in ceramica usatelo per la frutta usatelo per la verdura perché più o meno vi si ossida meno come era bello quando c'era meno problemi meno coltelli allora vedete questo è il cartoccio estremamente profumato che ecco qua con l'uva i pezzettini di mela il sughettino guardate che bello che esce fuori qui accanto il colore è bello devo dire la verità che questo è un modo molto elegante di presentare un insolito cinghiale che anche è molto meno aggressivo sì perché la dolcezza l'uva della mela poi tende a coprire quindi magari anche qui come la signora prima diceva il selvati questo è un modo comunque di mascherarlo e coprirlo io amo molto le ricette con la selvaggina del nostro Christian quindi lui sempre mi fa il cervo il daino vero? quante volte l'abbiamo fatto perché è un modo un tocco lieve e sinceramente insomma mangiare il selvaggina in modo diverso fa anche piacere va bene bravo 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 qui ci beviamo un bel vino e poi una bella crostata di mele e siamo a posto felici e appagati per tutta la sera dacci la ricetta di nuovo allora utilizziamo delle bocconcini di cinghiale della cipolla rossa rosmarino e aglio per il fondo usiamo dell'uva ovviamente delle mere abbiamo usato delle renette sale, pepe, olio e l'aceto e poi sono anche il condimento per l'insalatina di mele che va a fianco al piatto bene allora a questo punto io ricordo ancora la possibilità che dà Claudia Palmieri di essere ospite a questa serata dell'amicizia per due persone al castello di Tavolese che è la più bella terrazza del Chianti a chi indovinerà il quiz che vi ha mostrato attraverso un mimo il nostro Leonardo Romanelli parlavamo di mele allora delle mele dal punto di vista nutrizionale ne parleremo più ampiamente forse domani sera con il nostro medico nutrizionista ma vediamo in Toscana abbiamo veramente come dicevamo prima tanti tipi di mele quindi è inutile andare a prendere quelle del Trentino prendiamoci le nostre addirittura dal Mugello raccontiamo un attimo questo bel cesto di mele che già parla da solo descrivimile un po' con le loro qualità e caratteristiche allora questa è una mela golden è una mela che adesso che è stata appena raccolta ancora un po' a sprina e poi diventa abbastanza dolce anzi molto dolce si mantiene sempre fuori dal frigo come ho spiegato prima e si ammorbidisce abbastanza insomma non rimane durissima come mela diventa un po' più morbida quindi insomma si mangia molto bene questa qui questa invece è una mela modi che è una mela che è una mela modi è una mela nuova che noi abbiamo la produciamo da 4-5 anni che profumazione ha posso sentire sì 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 una mela modi una mela carina devo dire la verità ricorda un po' le mela è molto bellina lucida una mela a modo come si diceva una mela a modo una mela modina e questa è una mela un po' più asprina è molto dura una pasta veramente molto compatta quindi resistente resistente alla buccia ha una buccia abbastanza grossa spessa infatti è una mela che si mantiene molto bene non si sciuca questa è l'arenetta come dicevamo prima è una mela con pochissimo zucchero molto indicata per le persone che hanno dei problemi di diabete e si mantiene bene diventa un po' più morbida ecco diventa un po' più morbida e tende certe volte non a flosciarsi ma insomma no però saffrinzisce un po' come si dice saffrinzisce la mela è il termine giusto sì è il termine legato alle mele la mela saffrinzita la mela saffrinzita mi piace la mela saffrinzita e questa poi è la deliziosa e questa è la deliziosa che è una mela ora ad esempio non è molto dolce però è una mela che diventa molto dolce ed è molto succosa allora io amo fare per esempio questo un cesto del genere in casa stando attente ovviamente a girarle per lo meno ogni quattro giorni perché vi profumano la casa non costano niente soprattutto l'arenetta profuma da molto profumo poi ci sono tante altre perché fra un po' abbiamo le mele cotogne per farla cotognata cioè di mele ce ne sono tante secondo il tuo parere qual è la mela che va più di moda visto che purtroppo si parla di moda no che va di moda magari non lo so però sicuramente la mela che viene più vendosa è la golden la golden è la mela più richiesta che secondo me invece non è la più dolce ha un altro gusto più insipido altre sono più no è molto buona poi sicuramente dipende anche dal territorio dove viene coltivata perché ad esempio la mela più saporita viene coltivata in collina e quella più insipita è invece in pianura in pianura esatto allora vedete insomma dipende tanto anche dal territorio ecco perché le mele del Trentino sono considerate importanti allora volete andare a prendervi delle mele direttamente su vederle raccogliere quasi raccogliere se andate sul Mugello alla Materaia va bene dalla nostra Sabina allora qui abbiamo una ricettina volante perché Leonardo molto bellina perché mi sembra interessante quando facciamo qualcosa possa anche torniamo a casa sull'impronta abbiamo del porro tagliato a cubettini fatto rosolare nell'olio con della salvia un pochino di sale un pochino di pepe appena la mela è pronta la mettiamo lo saltiamo e facciamo un farro con la mela e il porro è la mela modina o la mela deliziosa questa? la deliziosa questa è la deliziosa allora io voglio subito sapere se abbiamo individuato il quiz sentiamo sentiamo pronto? si pronto? buonasera il suo nome buonasera Rita da Siena Rita da Siena mi fa tanto piacere sentire Siena veramente in effetti ho sentito che non telefoniamo in tanti da Siena è vero c'è un buon ascolto assolutamente come per esempio ogni tanto mi capita qualcuno che chiama dall'Umbria e anche se in Umbria risulta che ci siano ascolti ottimi ma non prendono magari la linea quindi capita così va bene? allora a questo punto diciamo un po' Romanelli mi ha fatto il mimo va bene? lei ci ha capito niente? si spero di si vediamo sì parrebbe le ali della libertà ale brava ecco sì bene certo sarà un po' messo in libertà e lei l'ha capito eh sì tra l'altro da un libro di King che io adoro quindi Matti è veramente un bellissimo film è anche il libro signora sono veramente molto molto felice perché se lei ama appunto la letteratura ama le cose belle proverà delle grandi emozioni andando a cena al castello eh tra l'altro non lo conosco ne io e mio marito lo conosciamo quindi sono contentissimo ottima occasione vedrà quindi Claudia ripeti dove a parte le telefonerai alla signora che da Siena facilmente riuscirà a venire deve uscire alla sulla superstrada Firenze-Siena a Tavarnelle Tavarnelle Val di Pessa lei sale su al paese e dopo pochi chilometri quattro chilometri trova Marcialla e da lì l'indicazione Castello di Tavolese non è facile a vedersi ma è facilissimo a raggiungersi comunque vi metterete d'accordo perché tu Claudia la contatterai grazie e complimenti grazie grazie mille arrivederci allora vediamo un attimo come prosegue questa ricetta allora quindi vi ripeto una ricetta che tende a dare che cosa semplicemente il piacere della croccantezza della mela quindi noi abbiamo il porro porro che viene rosolato in olio rosolando quindi prende il sapore un po' più della dolcezza classica che abbiamo normalmente sul sul porro a questo punto ci ho messo della mela in questo caso era una mela deliziosa tagliata a cubetti e cuoce non dovrà cuocere in maniera eccessiva dovrà cuocere in maniera tale che rimanga ancora croccante alla fine cosa aggiungo del farro allora il farro è un prodotto fra l'altro Cristian è un farro delle tue parti questo questo viene dal Alto Mugello viene dalla zona di Firenzola appunto quindi siamo zona di Firenzola Alto Mugello per il farro ve lo ricordo in questo caso è stato sbollentato o ho messo solamente a bagno no questo è sbollentato allora messo cioè sbollentato cosa vuol dire messo in acqua cotto in maniera tale che si riesca a cuocere in breve tempo però mi spiegavi una volta che si può anche lasciare il bagno tutta la notte e insomma si porta molto avanti ma noi infatti nella ricetta che faremo domani all'ora di pranzo alle 13 e 15 vi daremo un suggerimento per un farro eccezionale perfetto butta il farro vado vado voglio lanciare un altro quiz perché Cristian li mandiamo al Passaguay i nostri degli spettatori allora Passaguay va bene io vi do una canzone dovete indovinarla vediamo se ci riuscite eh la nostra energia bene le telefonate possono iniziare potete andare al Passaguay che ha la caratteristica di aspettarvi dalla mattina alla sera no? le 10 mattina fino a mezzanotte quindi insomma uno può scegliere ogni tipo di per questo è le occhiaie scusami è tutto il giorno di qui tutto il giorno di là però sono compagna tutti i giorni appunto non si sente mai solo diciamo Cristian diciamo la verità allora questa mela è assolutamente deliziosa noi legheremo il tutto con dello stracchino e sarà quindi un piatto può diventare un piatto unico per chi la sera non ha voglia di mangiare carne è un piatto quindi vegetariano in questa fase addirittura direi anche vegano no perché ci metti in questa fase se volete smettere qui lo potete fare a quel punto lo ricondite con un po' di olio e va bene anche per chi mangia una cucina vegana potete lavorare con le erbe aromatiche con le spezie ho messo la salvia e il pepe ma se volete divertirvi in estate usate magari il basilico ci mettete la scorza di limone è un piatto che nasce su un po' lo stile che dice sempre la Anna Maria pochi ingredienti e riconoscibili altrimenti diventa sempre un po' più difficile io ormai sono diventata molto più talebana nel senso che ci sono tanti grandi artisti della cucina e andare da loro è veramente una grande esperienza nella vita quotidiana e anche nel nostro andare nei ristoranti magari con la famiglia bisogna cercare di rispettare la qualità degli ingredienti rispetto anche del cliente facendo dei piatti con le porzioni oneste perché qua se no si finisce che certi ristoranti fanno le porzioni minuscole che non sono giustificate ritorniamo a una bella zuppiera di pasta ritorniamo ai tortelli che devono essere perlomeno 5 o 6 perché comunque si ha voglia di mangiare poi ci sono altri tipi di esperienze sei d'accordo con me? assolutamente però quello a quel punto diventa anche una degustazione in cui fa tanti assaggi devi mangiare poco per forza andare per esempio da Entiana Osme Zezza che vedremo fra l'altro negli show cooking insieme anche a Beatrice Segoni e ad altri chef lì a Boccaccesca significa avere delle esperienze diverse perché sono anche personaggi che hanno avuto esperienze diverse pensiamo è stata a Copenhagen è stata in tutto il mondo quindi ha acquisito una sensibilità nei confronti sia delle lavorazioni diverse sia dei cibi notevole no? ritorniamo mentre cuoce un secondo sulla Boccaccesca che vi aspetta abbiamo l'ultimo minuto e Boccaccesca è bella va bene e vi aspetta a Certaldo esattamente poi c'è Anna Maria c'è Leonardo siamo tutti lì siamo tutti lì quindi ecco molto semplicemente già legato a questo punto ecco è un piattino magari la salvia la si può lasciare tutto il resto lo mettiamo se avete un pochino di prezzemolo lo potete aggiungere poi io ce l'ho messo un po' eccolo qua quindi il farrotto si potrebbe definire perché l'abbiamo fatto modello riso ci mettiamo un po' di pepe eccolo qua e ci siamo allora ve lo ricordo molto facilmente lo fate con del porro che viene saltato in padella con dell'olio a questo punto si mette una mela deliziosa fatta a cubetti poi un farro che è stato sbollentato lo leghiamo alla fine dopo che l'abbiamo portato a cottura con dell'acqua con un po' di stracchino volendo potete giocare molto con tante erbe aromatiche che vi piace utilizzare benissimo un applauso come al solito anche a Leonardo Romanielli in versione di cuoco salutiamo sempre la Nara che ci sta a guardare vi ricordo di andare a Certaldo il 20 e il 21 il 27 e il 28 di questo mese Certaldo Alta tutta una giornata dalla mattina alle 11 fino alla sera a mezzanotte dove c'è mezzanotte? no andiamo a letto prima a letto prima andiamo a letto prima ma comunque Boccaccesca c'è sempre perché c'è Certaldo finché c'è Certaldo c'è Boccaccesca va bene ringraziamo quindi Claudia Palmieri ringraziamo Cristian Borchi del Passaguay e dell'antica porta di Levante ringraziamo Leonardo Romanelli la nostra Sabrina che ci fornisce queste mele che più mele di così si muore musica per individuare proprio se ci riusciamo all'ultimo minuto il quiz che darà diritto al Passaguay altrimenti passa domani e passa il Passaguay a domani musica 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 no ci troviamo tutti scettici stasera sull'individuare ci sei riuscita Claudia? forse 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 lei dice mmm va bene cosa sarebbe la vita senza le mele? Cristian? qualcosa più poverosimamente per te? indubbiamente un pochino più di tristezza per te? ma io sono una ghiotta di mele sicché per me sarebbe una tragedia ricordiamo il detto una mela al giorno leva il medico di torno e ricordiamo anche che le mele sono usate nella cucina di tutto il mondo e questo mi fa piacere ricordarlo voi pensate in America le famose ciambelle anche quelle dell'orso di Yogi ricordiamo per esempio Intano nel curry indiano dei pezzettini di mela con l'uvetta ma al nord abbiamo sempre delle altre mele confetture lo strude insomma Sabrina sei contenta noi stiamo dicendo evviva le mele evviva aspettando il TG evviva voi che ci seguite lì nel telegiornale come al solito per le ultime notizie arrivederci con l'uomo con l'uomo Grazie.